...per sentire una gara del giro di ricordo del campionato nazionale di Serie A. Di mano, torna il campo da proposta da Genizia in corpo al Maldino, pronto a coprire il progetto in campo in cerca di punti importanti per la seconda fase del campionato. Nel ringraziare come sempre i nostri sostenitori, l'amministrazione comunale e tutti gli amici del Palabana Mala, procediamo alla presentazione delle squadre. Enrico Filiari di San Gioio Montes, numero 16, Radhaeli Martino, numero 47, FIA, A, P, N, A, 155, Radhaeli Sera, Monsanto, N, O, O, Radhaeli Giacomo, numero 9, Vena Morelli, 1.52, 183, 23 mila Mexis, 21, 2011, una domenica Milena, una domenica Eugenica, 1.6 da Vole Nicolò, 1.10 da Vole Nicolò, 1.36 da Vole Nicolò, 1.36 da Vole Nicolò, allenatore sui nostri manieri di gente, e gara prestigio. E accogliamo adesso, con entusiasmo del nostro squadro, e presentiamo il ragazzo che lo fa la mano a mano, con il numero 88, a Rola Francesco, 1.55, a Cristina Turea, il mio padre, 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 il mio padre Un nome di reddito, 13, 16, 9 armi. Ed è l'unica d'unice capitani, Marco Evigliari. Alessandore, signori Polizio, Diti. Il pallina, علي e un uomo, meditinete del neonato. A, ricchini, signori, corronco, parliate. Poi direttamente allora una pagamata giunti. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.